È già lungo tempo che questo è accaduto. Tutto ciò mi appare ora come in un sogno. Ricordo come entrai nel reclusorio. Era di sera, nel mese di dicembre. Già imbruniva. Gli uomini tornavano dal lavoro, si preparavano per la verifica. Un barbuto sotto ufficiale mi aprì finalmente la porta di questa strana casa in cui dovevo passare tanti anni e provare tante sensazioni, delle quali senza averle sperimentate in realtà non potrei avere un'idea nemmeno approssimativa. Per esempio, in nessuna maniera potrei figurarmi questo. Che c'è di terribile e di tormentoso nel fatto che per tutti i dieci anni dei miei lavori forzati non sarò solo neanche una volta, neanche un minuto. Al lavoro sempre sotto scorta, dentro sempre con duecento compagni e non una volta, non una volta solo. Del resto dovevo ancora abituarmi a ben altro. C'erano, lì, assassini occasionali e assassini di mestiere. Banditi e capi di banditi. C'erano semplici scrocconi e vagabondi, cavalieri d'industria e professionisti del furto. Ce n'erano anche di quelli per i quali era difficile rispondere al quesito. Perché cosa mai sono potuti venire qui? E intanto ciascuno aveva la sua storia, torbida e greve, come i fumi del vino per la sbornia del giorno prima. Generalmente del loro passato parlavano poco, non amavano raccontare e facevano visibili sforzi per non pensare all'accaduto. Io conoscevo tra loro perfino degli assassini, tanto facili all'allegria quanto incapaci di ogni riflessione e si poteva scommettere che la coscienza non aveva mai rivolto loro un provero. Ma c'erano anche dei visi tetri, quasi sempre silenziosi. In generale era ben raro che qualcuno narrasse la propria vita. E poi anche la curiosità non era di moda. In certo qual modo non era negli usi, non era ammessa. Lì nessuno poteva stupire nessuno. Non siamo gente istruita e si dicevano spesso con una certa strana presunzione. Mi ricordo che una volta un bandito, Brillo, ai lavori forzati qualche volta ci si può ubriacare, cominciò a raccontare come avesse sgozzato un bambino di cinque anni, come dapprima lo avesse adescato con un balocco, condotto in qualche posto, in una rimessa deserta e poi là lo avesse sgozzato. Tutta la camerata che fino a quel momento aveva riso, delle sue barzellette, si mise a gridare come un sol uomo e il bandito fu costretto a tacere. Non per indignazione la camerata si era messa a gridare, ma così perché di questo non bisognava parlare, perché parlare di questo non era negli usi. Noterò in proposito che quella gente aveva in realtà un principio di istruzione, e non in senso figurato, ma in senso letterale. Certamente più della metà di loro sapevano leggere e scrivere. In quale altro luogo, dove il popolo russo si raccolga in grandi masse, potreste isolare un gruppo di 250 persone, metà delle quali sappiano leggere e scrivere? Ho poi sentito dire che qualcuno, da simili dati, aveva voluto dedurre che l'istruzione rovina il popolo. Questo è un errore. Qui ci sono tutt'altre cause, sebbene non si possa non convenire che l'istruzione sviluppa nel popolo la fiducia in se stesso. Ma questo non è appunto un difetto. Le varie categorie si distinguevano dal vestire. Gli uni avevano una metà della casacca di un bruno carico e l'altra grigia, come pure nei calzoni una gamba grigia e l'altra di un bruno scuro. Una volta sul lavoro, una ragazzetta venditrice di panini, avvicinatasi ai detenuti, mi osservò a lungo e poi, a un fatto, scoppiò a ridere. Oibo, come sta male, gridò, il panno grigio era scarso e anche il panno nero era scarso. C'erano pure di quelli che avevano tutta la casacca di solo panno bigio e soltanto le maniche scure. Anche la testa veniva rasa in modo diverso. Agli uni metà del capo era rapata per il lungo del cranio, agli altri per traverso. Fin dalla prima occhiata si poteva notare in tutta quella strana famiglia una certa pronunciata affinità. Perfino le più spiccate, le più originali personalità, che involontariamente dominavano le altre, anche quelle cercavano di adeguarsi al tono comune dell'intero reclusorio. In generale, poi, dirò che tutta quella gente, con alcune poche eccezioni, di persone inesauribilmente gaie, che per questo riscuotevano l'universale disprezzo, era gente tetra, invidiosa, millantatrice, permalosa e in sommo grado formalista. La capacità di non meravigliarsi di nulla era somma virtù. Tutti avevano questa fissazione, come contenermi esteriormente. Ma non di rado l'aspetto più altezzoso si mutava con la rapidità del fulmine in quello più pusillanime. C'erano alcuni uomini veramente forti. Quelli erano semplici e non posavano. Una cosa strana. Fra questi veri forti uomini ce n'erano alcuni vanitosi all'estremo, quasi fino alla malattia. In genere, la vanità e l'esteriolità stavano in primo piano. La maggioranza era corrotta e tremendamente incanagliata. I pettegolezzi e le maledicenze non cessavano mai. Era quella una bolgia, un inferno. Ma, ai regolamenti interni e agli usi invalsi nel reclusorio, nessuno osava ribellarsi. Tutti vi si inchinavano. C'erano dei caratteri fortemente spiccati, che si sottomettevano con difficoltà, con sforzo. Ma tuttavia si sottomettevano. Giungevano il reclusorio, dei tali che in libertà anche troppo si erano sbrigliati, troppo avevano ecceduto la misura, tanto che anche i loro delitti li avevano commessi alla fine, come fuori di sé, come non sapendo essi stessi perché, come in un delirio, in uno stato di ebrietà, spesso per una vanità eccitata al più alto grado. Ma da noi subito li mettevano al passo, nonostante che taluni, prima dell'arrivo al reclusorio, fossero stati il terrore di intere borgate e città. Guardandosi attorno, il novellino ben presto si accorgeva di non essere capitato dove gli pensava, che lì non c'era nessuno da far stupire, e infallibilmente si acquietava e si uniformava al tono generale. Questo tono generale consisteva esteriormente in una certa speciale, particolare dignità, di cui era penetrato quasi ogni abitante del reclusorio, come se realmente la qualità di forzato, di condannato, costituisse un qualche grado e per giunta onorifico. Nessun segno di vergogna o di pentimento. Del resto c'era anche un certo a quietamento esteriore, per così dire, ufficiale, una certa tranquilla abitudine ragionatrice. Noi siamo gente perduta, e si dicevano, non hai saputo vivere in libertà, ora, ora assaggia la strada verde, passa in rivista le file. Non obbedisti a padre e madre, obbedisci ora a una pelle di tamburo. Non volesti ricamare, ora batti le pietre col martello. Tutto questo si diceva spesso, a mo' di sermone, e nella forma dei soliti adagi e proverbi. Ma mai, seriamente. Tutte queste erano soltanto parole. Era ben difficile che uno di loro riconoscesse nell'intimo la propria iniquità. Se qualcuno dei non forzati si fosse provato a rinfacciare a un detenuto il suo delitto, a ridarguirlo, benché del resto non sia nello spirito russo di rimbrottare il delinquente, gli improperi non avrebbero più avuto fine. E che maestri dell'ingiuria erano tutti, ingiuriavano in modo raffinato, artistico. L'ingiuria era presso di loro eretta a scienza. Cercavano di colpire non tanto con la parola offensiva, quanto col significato offensivo, con lo spirito, con l'idea. E questo è più raffinato, più venenoso. Gli ininterrotti alterchi ancora più sviluppavano fra loro questa scienza. Tutta quella gente lavorava sotto il bastone, per conseguenza era amante dell'ozio, per conseguenza si pervertiva. Anche se prima non era pervertita, si pervertiva in galera. Essi tutti non si erano raccolti lì per volontà propria, essi tutti erano estranei l'uno all'altro. Il diavolo ha consumato tre paie di scarpe, prima di riunirci in mucchio, dicevano essi stessi di sé. Perciò i pettegolezzi, gli intrighi, le calunnie donnesche, l'invidia ai batibecchi, il malanimo, erano sempre al primo posto in quella vita d'inferno. Nessuna comare avrebbe potuto essere tanto comare quanto taluni di quegli assassini. Lo ripeto, c'erano fra loro anche degli uomini forti, dei caratteri, avvezzi in tutta la vita loro, a schiantare e comandare, temprati a fuoco, impavidi. Costoro erano involontariamente rispettati. Essi poi, dal canto loro, pur essendo gelosissimi della propria fama, in generale cercavano di non essere di peso agli altri. Non si abbandonavano a vane contumelia, si comportavano con non comune dignità. Erano giudiziosi e quasi sempre obbedienti ai superiori, non per principio, non per consapevolezza dei loro doveri, ma così, come per una specie di contratto, avendo acquistato coscienza dei reciproci vantaggi. Del resto, anche con loro si procedeva cautamente. Ricordo che uno di i detenuti, un uomo intrepido e risoluto, noto ai superiori per le sue tendenze bestiali, fu una volta, per non so quale colpa, chiamato a subire il castigo. Era una giornata estiva, un'ora in cui non si lavorava. L'ufficiale superiore, prossimo immediato capo del reclusorio, arrivò in persona al corpo di guardia, che era proprio accanto al nostro portone, per assistere al castigo. Questo maggiore era per i detenuti una specie di essere fatale. Li aveva ridotti al punto che di lui avevano paura. Era severo fino alla demenza. Si gettava sulle persone, come dicevano i forzati. Più di tutto essi paventavano in lui il suo sguardo penetrante, linceo, a cui nulla si poteva nascondere. Egli vedeva in certo quel modo senza guardare. Entrando nel reclusorio, già sapeva che cosa si facesse all'altro capo di esso. I detenuti lo chiamavano Ottocchi. Il suo sistema era sbagliato. Egli non faceva che inasprire coi suoi atti furiosi, cattivi, della gente già inasprita. E se sopra di lui non ci fosse stato il comandante, persona nobile e giudiziosa, che a volte mitigava le sue selvagge trovate, egli avrebbe combinato con la sua direzione un mucchio di guai. Non capisco come abbia potuto finire bene. Andò in congetto sano e salvo, pur essendo stato mandato sotto processo. Il detenuto impallidì quando lo chiamarono ad alta voce. Di solito egli si stendeva in silenzio e con fare risoluto sotto le verghe. In silenzio sopportava la punizione e dopo la punizione si alzava, come se nulla fosse stato, considerando a sangue freddo e filosoficamente l'infortunio toccatogli. Con lui, del resto, agivano sempre cautamente. Ma questa volta egli credeva per qualche motivo di avere ragione. Impallidì e di nascosto dalla scorta, riuscì a cacciarsi nella manica un aguzzo coltello inglese da calzolaio. I coltelli e ogni sorta di arnesi accuminati erano inflessibilmente proibiti nel reclusorio. Le perquisizioni erano frequenti, inattese e fatte sul serio. I castighi crudeli. Ma poiché è difficile scovare una cosa quando il ladro ha deciso di nasconderla in modo speciale, e poiché coltelli e arnesi erano nel carcere una necessità quotidiana, così, nonostante le perquisizioni, non scomparivano. E anche se venivano tolti, ne spuntavano dei nuovi. Tutti i forzati si erano precipitati verso lo steccato, e col cuore sospeso guardavano per le fessure tra i pali. Tutti sapevano che Petrov, quella volta, non voleva stendersi sotto le verghe, e che per il maggiore era giunta la fine. Ma proprio nel momento decisivo, il nostro maggiore montò sul carrozzino e partì, dopo aver affidato l'esecuzione a un altro ufficiale. Dio stesso l'ha salvato, dicevano poi i detenuti. Per quanto riguarda Petrov, egli subì il castigo tranquillissimamente. La sua collera era passata, con la partenza del maggiore. Il detenuto è obbediente e docile fino a un certo punto, ma c'è un limite che non bisogna oltrepassare. A proposito, non c'è nulla di più curioso di questi strani scatti di impazienza e di rivolta. Spesso un uomo sopporta per alcuni anni, si placa, subisce ai più crudeli castighi, e tutta un tratto esplode per una qualche piccolezza, per una qualche bazzecola, quasi per nulla, sotto un certo aspetto. Lo si può perfino chiamare pazzo. E così si fa. Ho già detto che nel corso di più anni non ho veduto mai, fra quella gente, né il minimo segno di pentimento, né la minima contrita meditazione sul proprio delitto, e che la maggior parte di loro crede nell'intimo di avere assolutamente ragione. Questo è un fatto. Certo, la vanità, i cattivi esempi, la baldanza, una falsa vergogna, ne sono in gran parte la causa. D'altro lato, chi può dire di aver esplorato il fondo di quei cuori perduti, e di averci letto ciò che è celato al mondo intero? Eppure si sarebbe potuto in tanti anni almeno notare qualcosa, cogliere, sorprendere in quei cuori almeno un qualche tratto che attestasse l'intima angoscia, la sofferenza. Ma questo non mi è accaduto. Non mi è assolutamente accaduto. Sì, il delitto, a quanto pare, non può essere concepito da punti di vista fissi, belle e pronti, e la sua filosofia è quanto più difficile che non si supponga. Certo, i reclusori e il sistema dei lavori coatti non correggono delinquente. Essi lo puniscono soltanto e preservano la società da ulteriori attentati dal malfattore alla sua sicurezza. Nel delinquente, poi, il reclusorio e i lavori forzati più intensi non sviluppano altro che l'odio. La sete dei piaceri proibiti è una terribile spensieratezza. Ma io sono fermamente convinto che il famoso sistema cellulare raggiunge soltanto uno scopo sbagliato, illusorio esteriore. Esso succhia all'uomo la linfa vitale, gli snerva l'anima, la indebolisce, la sbigottisce, e poi presenta una mummia, moralmente rinsecchita. Un mezzo pazzo come un modello di correzione di pentimento. Certo, il delinquente che è insorto contro la società la odia e quasi sempre stima a sé nel giusto e lei nel torto. Inoltre, egli ha già ricevuto il castigo e grazie a Dio quasi si considera purificato, sdebitato. Si può giudicare infine da tali punti di vista che quasi quasi sia da giustificare lo stesso delinquente. Ma nonostante ogni possibile punto di vista, ognuno consentirà che ci sono dei delitti che sempre e dappertutto, secondo tutte le leggi possibili, fin dal principio del mondo, si sono stimati incontestabili delitti, e tali si stimeranno fino a che l'uomo rimarrà uomo. Soltanto nel reclusorio ho udito dei racconti sulle più spaventose, più innaturali azioni, sui più spaventosi, più mostruosi assassini narrati fra le risate più incontenibili, più infantilmente allegre. In particolare, non mi esce di mente un parricida. Era di famiglia nobile, faceva l'ufficiale, ed era, nella casa del proprio padre settantenne, qualcosa come un figlio al prodigo. La sua condotta era assolutamente scapestrata, si era sprofondato nei debiti, il padre lo limitava, lo esortava. Ma il padre aveva una casa, aveva una cascina, lo si sospettava danaroso, e il figlio lo uccise, per cupidicia dell'eredità. Il delitto non fu scoperto che dopo un mese. Lo stesso assassino denunciò alla polizia che suo padre era scomparso chissà dove. Tutto quel mese l'aveva trascorso nel modo più depravato, finalmente, in sua assenza, la polizia trovò il cadavere. Nel cortile, per tutta la sua lunghezza, passava un fosso per lo scolo delle acque immonde, coperto di assi. Il corpo giaceva in quel fosso. Era vestito e azzimato. La testa canuta era stata recisa e appoggiata al busto, e sotto la testa l'omicida aveva messo un cuscino. Egli non confessò, fu privato della nobiltà, del grado e inviato ai lavori forzati per vent'anni. In tutto il tempo che io rimasi con lui, egli fu sempre di eccellente, giovialissimo umore. Era un uomo in sommo grado scapato, sventato, irriflessivo, benché niente affatto sciocco. Ma ebbe a notare in lui una qualche speciale crudeltà. I detenuti lo disprezzavano, non per il suo delitto, di cui non restava più nemmeno il ricordo, ma per la sua stravaganza, perché non sapeva comportarsi. Nelle conversazioni, qualche volta, accennava a suo padre. Un giorno, parlando con me della sana costituzione ereditaria della loro famiglia, soggiunse, ecco il mio genitore. Quello, fin proprio alla sua fine, non si lagnò mai di alcuna malattia. Una così bestiale insensibilità, naturalmente è inconcepibile. È un fenomeno. Qui c'è un qualche difetto di costituzione, una qualche mostruosità fisica e morale, ancora ignota alla scienza, e non un semplice delitto. Si intende che a questo delitto io non avevo creduto, ma persone della sua città, che dovevano conoscere ogni particolare della sua storia, mi raccontarono tutta la faccenda. I fatti erano talmente chiari che era impossibile non credere.